L'idea interessante è quella del mondo degli Elfi, ispirati a William Butler Yeats, una serie di fiabe protagonisti dei uomini bambini. La Film Commission dell'Umbria appoggerebbe fortemente questo progetto di valenza culturale e politica in cui degli adulti ormai completamente liquefatti nel cervello vivono nel mondo delle fiabe. Fammi sapere, quello che senti è la voce della mia coscienza.